Andrea Benecomune promuove una rete civica di persone e associazioni. Per il referente, l'ex sindaco Vincenzo Caldarone, il panorama cittadino a pochi mesi prima del rinnovo del governo è desolante. Oggi Andrea Benecomune presenta a Punto Futura, una rete civica e popolare. Da quale esigenze nasce e di che cosa si tratta? Andrea Benecomune non presenta propone, nel senso che non è che ce l'abbiamo fatta, non abbiamo nessun prodotto preconfezionato. Sappiamo soltanto che ci sono due grandi e immense esigenze nella città, quella di poter cominciare a capire se si può fare qualcosa, perché il sentimento di rassegnazione è tanto e l'altro grande fabbisogno della città è quello di potersi cominciare a fidare di qualcuno, non tanto di persone, ma di chi si mette insieme con dei progetti e con delle idee. Questa rete vuole significare che esiste invece un bene comune, che questo bene comune va perseguito, va pensato, va progettato e specialmente va fatto in alleanza con la gente in carne ed ossa e non come somma di sigle politiche. Quindi una rete pensata da e per i cittadini? Una rete pensata con i cittadini, noi siamo cittadini che vogliono fare qualcosa con la comunità, con i cittadini. È finito il tempo in cui la politica o chi rappresentava dispensava favore, adesso abbiamo capito che o ci rimbocchiamo le maniche tutti insieme oppure questo non succede, ma rimboccarsi le maniche non significa darsi da fare confusamente, significa scegliere con chi vuoi stare e per che cosa vuoi stare e dove vuoi andare con questa città. Quindi non abbiamo niente da dare ai cittadini, abbiamo molto da faticare, da costruire e specialmente da ricominciare a sperare con i cittadini. Oggi presenterete 10 punti, una sorta di manifesto di 10 punti da cui poter ripartire. Quali sono gli elementi salienti? Allora, gli elementi salienti sono il primo che ha bisogno di rispetto, ha bisogno di rispetto all'interno perché noi dobbiamo rispettare questa città, questa comunità che viene abbandonata sempre di più ogni giorno dai nostri ragazzi e che ha bisogno di rispetto all'esterno perché qui ormai è un deserto di realizzazioni, di finanziamenti, di opere pubbliche, di investimenti. Nessuno investe più su questo territorio, ma investe neanche per il futuro, neanche come innovazione. E quindi questo è al primo punto. Il rispetto lo si recupera come in tutte le migliori famiglie, soltanto se si ha l'autorevolezza, se si ha rispetto di se stessi, se si mette al primo posto le esigenze diffuse. Ma poi ci sono gli altri temi fondamentali. Il lavoro, la sicurezza, l'innovazione, il territorio che non può essere più abbandonato a se stesso, il recupero fisico della città con il suo centro vitale che è il centro storico. Non sono soltanto slogan. Noi abbiamo preparato dieci punti come dieci comportamenti per non essere blasfemi. Sono dieci contenitori da riempire. Stasera lanceremo l'idea di collaborare a questo progetto e dare a queste idee un'identità. Un'identità in cui tutti o la maggior parte dei cittadini devono riconoscersi. Perché se sappiamo chi siamo, se abbiamo un'identità, se abbiamo queste idee, possiamo ricominciare a rispettarci. Altrimenti il buco del comune diventa il buco della città come pericolosamente sta già stato.